e questa teoricamente è la multio 5 stelle e abbiamo 50 e 50 perché essere un 5 stelle in questo banner ancora non l'ha preso quindi vediamo si ora ma il minimo non esce dopo la 70 no infatti no no è qua è qua infatti ok dovrebbe essere più o meno a metà multi poi magari esce dopo però insomma vediamo allora l'animazione è per tutti uguale all'inizio quindi non si riesce nemmeno a capire finché non parte poi ecco che paura ragazzi cioè nonostante ci siano le stelle quando c'è il 5 stelle uguale mi sono spaventata uguale perfetto molto bene 64 65 eccoci ci siamo qua 66 eccoci vediamo se è lei è lei 50 e 50 vinto è lei marionette marionette eccola ecco la ok vediamo dai let's go non mai magari questa ecco la infatti no lo stavo per dire perché questo banner effettivamente la maggior parte del permanente è andato benissimo cioè è uscito a tutti intorno a 20 30 40 quindi me l'aspettavo questa alla fine andavi a pt30 perché avevi 60 di punti qui si l'ho trovata all'ultimo si te all'ultimo la betta tipo alla prima qua mi sembra no ma la betta l'ha trovata pure all'ultimo no la betta l'ha trovata all'ultimo del 50 cioè nel senso vuole 50 sì invece quando gli è uscito subito quando è uscito subito alla betta ok bene non si chiamano lamor si chiamano broadblade sto no maccio ok vai prendiamo con il ticket lui almeno lui ce l'abbiamo eccolo che arriva immaginati bug esce un'altra anchor così a caso bella singola del ticket si raddoppiavano oh eccolo qua bello bello lui è oggettivamente sempre bello quando lo vediamo 80 sì 70 e quindi qua c'è la 65 nel mezzo quindi ci dovrebbe essere story tap c'è story tap perfetto ok vediamo potrebbe essere in qualsiasi però nella seconda metà della multi è più probabile questo è 62 vediamo 3 64 65 66 ci siamo 67 vai però eh 68 68 alto e 3 esatto ok 69 l'ultima era la 70 70 proprio ok yes grande abbiamo vinto top bellissima e siamo a 2 che ritappa un gianne probabilmente un gianne si ci tornano perché questi sono ok oh oddio me lo vale dai dai me lo vale allora allora 31 31 31 31 32 32 32 sì eccolo 33 eccolo al pt gesù ragazzi dio solo questo va bene non è vero non è vero non è reale quest'uomo sì 35 dai buono doppio 4 stelle ottimo ok 35 no questa è 36 questa qua 36 ok sì 37 mi sembra stato alla fine oh cessa dai 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 sì te l'ho detto pdc bisogna vendiarci di genshin 37 col 50 e 50 oh m4 perché dalla 65 in poi è finito il soft quindi perre nella scommessa dicevo lì ok vediamo intanto speriamo ci sia che ho bisogno di andare nella multi a 70 meno male ok meno male ok vediamo allora nella prima non è 61 62 sì 63 64 ok no ok no 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 perfetto 66 sì 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 7 67 mi sa che sta la 70 eh no 68 meno male non quella dopo se no poi Marco Farasci inizia a fai pazzo ok perfetto bello questa è la multi del 5 stelle seriamente bello del soft prima PDG è uscito dopo però vediamo dai via andiamo a 74 5 stelle yes ok questa è 65 66 che è con il retop ok 67 68 69 70 71 72 eccola vediamo dai sì 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 50 50 50 vinto ragazzi non ci si vede riccardo vince 50 50 in un gioco ragazzi non ci vede sta continuando a dire non è possibile guarda riccardo l'hai vinto le minacce funzionano ok andiamo a 20 20 esci e sbrigati esci e sbrigati esci e sbrigati muoviti su esci e sbrigati oh dai ma l'altro nooo esci e sbrigati non ci vedo doppia doppia che non si sa che cazzo farce ne andiamo 1 2 come? doppia addio no riccardo no riccardo svieni riccardo svieni tutto lo scolo dillo sto gioco non si disinstalla 73 praticamente multi del 5 stelle eccoci ci siamo ok già c'era anche lei me l'ero dimentiata mi son cagata tantissima paura la schiera delle pina non è giocata ma stiamo passiamo basta basta quanti sono basta le mero ducche no no come dire o quadruple visto stiamo parlando di altro ok andiamo perfetto possiamo andare io ce la posso fare dove è la terza eccoci ecco le zinne le sue sono no no però va bene tu volevi la vostra e poi hai garantito gg tanta siamo a 77 71 si pensa in grande poi si realizza poco eccoci bene meno male si è fatto bene dai dai per favore signorina gg signorina gg si gg 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 sbrigati sbrigati c'è in tempo per Alberto io rendo già la prediction B2 ora come Riccardo doppia così anche tento sai farci prediction c'è il risultato ha vinto il sì completare il pronostio ooooh 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 ecco 73 ooooh ce l'abbiamo fatta sembra impossibile una piaga una piaga ma sembra impossibile ce l'abbiamo fatta sbrigati esci e sbrigati funziona tutte le volte raga esci e sbrigati ed esce esci e sbrigati ed esce è tre volte di fila che lo facciamo parole in codice dov'è 2 3 4 5 6 7 pt7 esci e sbrigati e l'arma esce andiamo andiamo 5 stelle forse prima della 74 ce l'abbiamo ce l'abbiamo ce l'abbiamo ce l'abbiamo allora allora 65 66 67 68 69 70 anche quando dopo la 70 comunque 71 72 ci siamo yes vinto anche questo rogo niente ha vinto al sì 50 e 50 vinto pt72 favore cioè qui calzaro yes oh ce l'abbiamo preso albi anche calzaro è tornato a casa a fatica eh perché se l'è tirato un bel po' quest'uomo diciamo le cose come stanno oh dove dove sta oh ce l'abbiamo olè oggi doppio elettro albi si è rifatto il team 63 ok 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 yes si ufficialmente ufficialmente adesso lo possiamo dire li abbiamo vinti tutti la prima in line di tutti quelli che hanno pullato oggi è stata vinta oddio mio 70 da non andiamo oltre facetene quelle singole 70 grazie meno male meno male oh 61 62 63 64 65 ora abbiamo superato il soft 66 66 no ragazzi basta basta non voglio più vedere sto con basta tanto basta non voglio guardare smettetela e poi se lo potevano cioè onestamente se lo potevano tenere 2 o 4 5 6 6 6 6 10 11 12 13 12